Inizierà presto la pulizia di tutto l'arenile di Capaccio Pestum, è quanto stabilito nel corso del tavolo di lavoro svoltosi ieri a Palaccio di Città. Gli operai della Paestum si occuperanno della pulizia della spiaggia lungo tutto il litorale, mentre le squadre di lavoro della Sarim si occuperanno del trasporto. Dalle parole passiamo ai fatti garantendo la pulizia delle nostre spiagge, afferma il consigliere con delega alla fascia costiera, Fernando Maria Mucciolo. Abbiamo individuato un piano d'azione ben preciso, così da effettuare periodicamente delle attività di pulizia. Abbiamo già iniziato, aggiunge l'assessore, a raccogliere dei rifiuti per poi partire a pieno regime, non appena le condizioni meteo lo consentiranno.